Salve, buongiorno, bentornati, questo è il secondo video di oggi domenica, 4 dicembre domenica, secondo video che faccio, sto facendo la mia passeggiatina perché è una bella giornata, nonostante il periodo dell'anno, oggi è venuta una bella giornata, il cielo è sgombro, da nuvole, non c'è nulla che possa far pensare a un cambiamento del clima, è pomeriggio, sono non lo so, che ore sono, saranno le 3 qualcosina, io ho trovato una pietra dove sono seduto, non so se si vede, in faccia al sole mi godo questo sole, il sole è bello, lo stesso sole da cui scappiamo d'estate, dove io scappo, tipo in un giorno d'estate non mi metterei mai qua a prendermi il sole, cerchiamo, cerco l'ombra, invece oggi ho il sole e mi fa piacere, sto camminando senza meta e senza scopi, ho già mangiato quindi non ho portato nessuno spuntino, c'ho solo la mia acqua, e nulla più, il temperino, quelle cose che mi porto dietro un pezzettino di corda, insomma, cose che porto dietro che potrebbero essere utili, ma qua c'è solo da camminare e godersi il tempo, mi era quasi venuta voglia di fare una live, ma non la faccio, proprio perché non ho preparato nulla, tipo faccio la live facendo cosa, non riesco neppure a leggere lo schermo, perché c'è il riflesso del sole, c'è il sole negli occhi, non ho nulla da mangiare, non ho nulla da fare, nulla da costruire, quindi magari sarebbe una live senza senso, brutta, e quindi la lascio per un'altra volta, più volte ho detto che volevo fare una live da qua, dalla cava, più di una volta l'ho detto, ma non mi sono ancora organizzato per farla veramente, mi era quasi venuta voglia di farla oggi, ma no, niente di niente, oggi l'unica cosa che posso far vedere che ho costruito, è questa qua, questo l'ho costruito qualche settimana fa, un pezzetto di canno, ho costruito un fischietto, fischietto di emergenza, che quando tu hai bisogno di aiuto, invece di stare a gridare, tu fischi con il fischietto, mamma mia che figuraccia, non funziona il fischietto, che faccio lo butto, ma non funziona, invece funziona, perché bisogna mettere il dito qua, tappare il buco dietro, ok? eh, si sente pure l'eco, eh, eh, si, si, si sente l'eco del fischio, in caso di emergenza, se ti serve, fa fare un fischio, questa è la prima volta che ci provo a costruirlo, il suono non esce fuori facilmente, bisogna soffiare, con una certa forza, però, mi sono divertito a farlo, e forse un giorno faccio un video, mentre ne faccio un altro, io, mi piacebbe fare uno di quei flauti, che i pastori facevano antichamente, il detto fiscaletto, se ci vogliono la conoscenze, troppo specifiche, che io non ho, ho fatto il fischietto di emergenza, non lo userò mai, però l'ho fatto, è stato divertente, e ne farò un altro, spero più bello e più funzionante, e va bene, io adesso mi rimetto in moto, la pausa l'ho fatta, il sole me lo son preso, io voglio godermi, perché, eh, che ci sarà, un'altra oretta di luce, forse un po' di più, poi comincia la storia del crepuscolo, e io ho ancora, una missione importante da fare oggi, oggi è domenica, voglio andare da mia madre, e, oh, e che faccio passare la settimana intera, senza, senza andare dalla mammina, no, non si può, quindi, fango l'alieno sulla terra, seduto sulla pietra, a godersi il sole, mando un abbraccio, e questo è un video corto, però, interessante, perché ho fatto vedere, che non faccio niente, e ci si può divertire, non facendo niente, quindi, questo è una cosa, un messaggio importante, si può stare bene, anche senza fare niente, senza avere niente, seduto su una pietra, pensiamoci a questo, io vi saluto di nuovo, ciao, frango l'alieno sulla terra, un abbraccio grande a tutti, ci vediamo, al prossimo video, ciao, oh, che bella cava, maria, che bella sta cava, mi ci abbiace, la cava, vediamo se riesco a scendere, senza rompermi la faccia, e farvi vedere, la cava, vabbè, che l'ho già fatta vedere, tante tante volte, ma, quasi scende giù, vabbè, laggiù è fondo, ci sono già stato laggiù, anche là ci sono già stato, tutto là, tutto là ci sono già stato, però non mi stengo di andarci, che bello, ciao, ciao,